Il nostro paese è un avvenimento radioso di pace, di progresso e di felicità e vogliamo pregare i nostri rappresentanti che basta col campo l'unisimo da anni e anni è giunto allora a propizia che un popolo riunito può mantare la malora è un popolo riunito facendo sentire la voce della lamentela lanciando i viva a pelle se non quanto vogliamo ma almeno per quanto è necessario è piatoso guardare questo stato di rigresso sa ancora che stiamo avvicinando 20 secoli di storia criminale tanto l'ha guardato come si chiama le strade o campestre sono tanto piattose che i rovi e i vitalbi sono cavalcati da un lato all'altro e grazie signori ministri veniteci incontro per favore che loro è propizia grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti